Bentornati su CiperTV, oggi è martedì 18 dicembre 2018, iniziamo subito costruendo un heavy set, quindi un set pesante di 3 snatch balance, a seguire il WOD 10 squat snatch, 10 lateral barber bar piece, 10 squat snatch, 20 lateral barber bar piece e 10 squat snatch. Carichi e scalature come al solito sulla grafica qui di fianco, il resto della classe e il riscaldamento come al solito sono spiegati su Instagram, non mi resta che darvi appuntamento domani e augurarvi buona giornata.